Un confronto acceso, duro, faccia a faccia tra gli avvocati napoletani e il magistrato Pier Camillo Davigo, quello andato in scena alla biblioteca Alfredo De Marsico di Castel Capuano, che ha ospitato l'atteso confronto, nato a seguito delle reazioni dell'avvocatura alle dichiarazioni che il giudice di Cassazione, componente del CSM, rilasciò in un'intervista pubblicata un mese fa al centro del dibattito, i temi della prescrizione e le proposte per la riforma della giustizia e la durata dei processi, a cui Davigo ha così risposto. Se fossi venuto qui a procuacciarmi applausi avrei detto cose che avrebbero sollecitato gli applausi. Credo che la franchezza sia più utile del cercare di rabbonire. La prescrizione è una delle cause della lentezza dei processi, perché il fatto stesso che non ci siano molti patteggiamenti è perché tra poco e niente molti scelgono niente. Tema dell'incontro moderato dal giornalista San Giuliano appunto la riforma e la ragionevole durata del processo tra i partecipanti Ermanno Carnevale, presidente della Camera Penale di Napoli e Antonio Tafuri, presidente dell'Urdine degli Avvocati di Napoli. L'idea che gli avvocati possano rallentare i processi è un'idea che esprime una concezione autoritaria del processo che non trova assolutamente nessuna corrispondenza con la nostra Costituzione e soprattutto non ha una corrispondenza nella realtà. La prescrizione, che è il tema poi al centro del dibattito, matura per lo più nella fase delle indagini preliminari quando gli avvocati non toccano, come si dice usando un gergo calcistico, palla. Nella fase del giudizio di primo grado le percentuali delle nostre ricerche ci dicono che le cause di rinvio riconducibili a scelte difensive ammontano al massimo al 4% e per giunta non hanno nessuna incidenza sulla decorrenza del termine di prescrizione. Noi cerchiamo di avere il più possibili incontri anche mediaticamente importanti, perché no? Proprio perché il messaggio dell'avvocatura, quale paladina del rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti costituzionali sia chiaro e sia manifestato anche all'esterno.